Per il progetto a cui stanno lavorando per la scuola, Anna e Simone devono procurarsi del cartoncino e dei pennarelli. Anna propone di andare ad acquistarli alla cartoleria in centro, che dista 500 metri da casa sua. Simone risponde che farebbero prima ad andare al colorificio in periferia, che dista 450 metri. Chi dei due ha proposto la soluzione più vantaggiosa? 500 e 450 sono due numeri naturali e si possono quindi rappresentare su una semiretta orientata, che parte da zero, il primo numero naturale, e prosegue all'infinito. Scegliamo una scala adatta al nostro problema e rappresentiamo le due distanze sulla semiretta numerica. Potremo così ordinare e confrontare le due distanze. Dal confronto vediamo che 450 è minore di 500. Quindi è il colorificio il negozio più vicino, come diceva Simone. In generale, se due numeri naturali hanno lo stesso numero di cifre, si considerano le cifre di sinistra. Il numero maggiore è quello che ha la cifra che li differenzia maggiore. Se le prime cifre a sinistra sono uguali, si procede con le cifre successive fino a trovarne due diverse. Grazie a tutti. Grazie a tutti.